Non ci sono solo la malaria, la denutrizione, la guerra, uccidere in diverse zone del continente africano e anche la stregoneria. Ha rischiato la vita quest'uomo in Centrafrica, accusato di aver ucciso con un fulmine una ragazzina. È stato picchiato per diversi giorni, poi arrestato per due mesi. Il giorno che mi hanno liberato sono tornato a casa, ma dopo questo c'è stato un sollevamento di popolo, perché quando è morto un altro ragazzo mi dicevano che ero ancora io la causa. Si sono preparati per venire a prendermi e farmi del male. Matteo sussurra ai nostri microfoni, ma a testimoniare la sua tragedia è tutto di lui. Il suo atteggiamento, il suo sguardo triste, la sua casa è stata distrutta, i suoi campi saccheggiati, la sua famiglia ha otto figli e dispersa a causa delle accuse della Marabù, la stregona del villaggio. Matteo ora è a Bangui, ma è dovuto scappare dalla sua terra. Matteo Tailleux è di Bouar, nel nord-ovest del paese. Quando è scappato dalla sua casa, prima di raggiungere la capitale, si è rifugiato qui, nel Carmelo di Sant'Elia. Ma anche il convento è stato circondato da uomini armati e per portare al sicuro Matteo, il priore di Sant'Elia ha dovuto chiedere l'intervento della Minusca alle truppe dell'ONU in Centrafrica. Queste persone armate ci hanno seguiti fino a Baurò, più di 60-70 chilometri, e hanno tentato di bloccarmi. Penso che lo studio, la cultura, aiuti molto a largare la mente, a capire che forse non tutto quello che credono è vero e anche aiutare a crescere nella fede cristiana. Facendogli ragionare, almeno un po' di dubbi iniziano a venirgli e forse pian piano col tempo si cambierà.